Grazie a tutti. E' un'iniziativa che ha avuto vita in CSMT grazie a un'idea appunto di CSMT e di alcuni dei suoi partner che potete vedere in questa slide. Tra cui presenta l'Università degli Studi di Brescia, Antares Vision, Codice Plastico, 4Solid, Gexel, PQ4, Trim Informatica, Gammy Industries e Talent Garden. In questa slide potete vedere anche gli indirizzi internet, il sito internet di NextCodeGeneration, nextcodesgeneration.it, il canale Instagram NextCodeGeneration, la pagina Facebook NextCodeGeneration sempre e il canale YouTube CSMT Gestione dove carichiamo tutte le sessioni precedenti. Quindi per chi si è perso qualcosa può andare su YouTube a recuperarsi i talk precedenti. Appunto NextCodeGeneration è un'iniziativa che punta a creare una community in ambito di sviluppo software. Quindi ci troviamo periodicamente per portare quelle che sono le nostre competenze e di recente abbiamo aperto le porte anche a talk da parte di persone che non sono diciamo dentro della community fino all'inizio e quindi ci fa piacere oggi avere ospiti appunto Tiziano e Lorenzo. Ciao! 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 Vi rubo ancora qualche minuto per parlarvi della NextCodeChallenge. Che cos'è la NextCodeChallenge? Per chi non la conoscesse è la nostra sfida di coding dove bisogna partecipare singolarmente o a squadre. È possibile utilizzare qualsiasi linguaggio di programmazione e viene stilata una classifica che aggiorniamo di volta in volta e si concluderà con l'ultimo incontro del 2021. Viene attribuito un punteggio per ogni soluzione corretta, tre punti per chi si classifica al secondo e terzo posto e cinque punti per la soluzione che viene decretata come migliore. Su quali basi viene fatta la valutazione? In base alla correttezza del risultato, l'efficienza dell'algoritmo, lo stile di programmazione adottato, l'originalità della soluzione prevista e la presenza dei commenti. Come l'anno scorso, anche per quest'anno, il primo classificato della classifica finale vincerà un abbonamento annuale a PuralSite. Quindi prendete in considerazione di partecipare perché è veramente un sito per corsi molto valido. Questa era la challenge dello scorso incontro. Il risultato è il seguente. Non vi elenco il numero perché sarebbe un po' troppo lungo e perderemo troppo tempo. Comunque se volete vedere la soluzione trovate i risultati su nextcogeneration.it. Ha vinto Oldman, che ha vinto Stefano questa challenge, però è primo in classifica ancora Oldman con 13 punti. Quindi attualmente abbiamo due persone in classifica, cercate di partecipare più possibili che così provate a vincere l'abbonamento a PuralSite. Questa è la challenge del prossimo incontro, quindi avete un mesetto di tempo per farla. Una matrice G di dimensione M per N con M e N compresi tra 1 e 20 è tale che G di IDJ appartenente a 0,1 per ogni appartenente a 1M e G appartenente a 1N. È possibile modificare il contenuto della matrice effettuando la negazione binaria di una qualsiasi delle sue righe o colonne, un qualsiasi numero di volte, considerandole come numeri eventi, come cifre, i valori nelle celle corrispondenti. Definendo VG la somma dei numeri rappresentati dalle sue righe, qual è il massimo valore VG ottenibile modificando il contenuto della matrice un numero arbitrario di volte? Qua c'è un piccolo esempio che spiega appunto la regola di questa challenge, non dovete prendere appunti perché comunque verrà caricata sul sito e vi verrà inviata per email e quindi potete trovare il testo della sfida appunto su internet. Come partecipare? Basta inviare una mail a challenge.netschoolgeneration.it, la scadenza è domenica 20 giugno, bisognerà scrivere in oggetto il Next School Challenge numero 04 con il nickname della vostra squadra, nel corpo della mail i partecipanti, il linguaggio utilizzato e la soluzione che avete trovato e come allegato che è obbligatorio per la valutazione il codice del programma. Per restare in contatto vi suggeriamo di aggiungere la rubrica al numero 371 168 8930, scrivere un messaggio su whatsapp nextcode on e vi iscriverete al nostro canale di notizie su whatsapp per tenervi aggiornati su Next School Generation. Prima di lasciare la parola ai ragazzi, vi ricordo che il prossimo incontro sarà il 30 giugno 2021, parlerà Alberto Acervis di 4Solid e parleremo di Chaos Engineering. Alberto è molto competente in materia, è un sviluppatore molto esperto, fa parte della community quindi vi consiglio fortemente di iscrivervi. Adesso lascio la parola a Tiziano e Lorenzo. Vai, ci siamo. Prego. Vai. Grazie Marco, vi condivido lo schermo che dovrebbe essere arrivato adesso. Ok. Allora, come appunto diceva Marco, oggi parleremo di GraphQL e capiremo insieme che cos'è, come funziona, quali sono le sue key features e quali sono i suoi casi d'uso. Però prima di tutto facciamo le presentazioni, noi siamo Tiziano e Lorenzo, qui trovate tutti i nostri riferimenti, siamo due full stack developer e lavoriamo per Register It, l'azienda che si occupa di domini hosting, email, probabilmente la conoscete, insomma è abbastanza nota nel settore, nel nostro settore. Ne approfitto per dire che stiamo anche cercando degli sviluppatori, per cui se vi interessa mandate il vostro curriculum e sarà ben accetto. Veniamo all'argomento di oggi. GraphQL. Capiamo innanzitutto dove nasce GraphQL e perché nasce GraphQL. GraphQL nasce all'interno di Facebook e nasce con un'esigenza specifica, esattamente nel 2012, perché nel 2012 Mark Zuckerberg si rende conto che la strategia che stava seguendo Facebook per venire incontro alla crescente numero di device mobile che in quel momento stavano approdando su Facebook era sbagliata. Essenzialmente avevano puntato tutto sul sito web, quindi anche l'app che loro avevano realizzato era in pratica un'app che navigava il loro sito web. Non avevano realizzato delle app native, come invece stavano facendo tutti i loro concorrenti. Si rendono conto di questo nel 2012 e nel 2012 decidono quindi di creare la prima app nativa di Facebook, che era un'app per iOS. Chiaramente dovendo sviluppare questa app nativa, ovviamente decidono di utilizzare le API che già erano disponibili per il sito web, quindi erano delle API REST. Il problema però è che immediatamente si rendono conto che c'erano delle difficoltà e queste difficoltà già da subito escono fuori con il newsfeed, che è la pagina di approdo, diciamo, di Facebook, perché è una pagina in realtà molto complessa, che contiene moltissimi riferimenti ai nostri amici, le loro attività, i like, i post, eccetera. E quindi, dovendo fare delle chiamate REST su questa pagina, si rendono conto che si sviluppa una serie di problemi. La loro prima versione della loro app aveva diversi problemi, tra cui il principale era che era molto lenta questa app. Perché era molto lenta? Innanzitutto perché, come abbiamo detto, c'erano moltissime risorse da recuperare e da ricombinare all'interno dell'app. Quindi dovevano partire dall'app moltissime chiamate. Ovviamente questo corrispondeva ad un utilizzo, diciamo, intensivo del collegamento del device mobile. E, come ultimo problema, c'era che se per caso durante la sequenza di chiamate avveniva un errore, bisognava ricominciare tutte le chiamate da capo, perché altrimenti si sarebbero creati degli stati inconsistenti. Questo, queste cause, portano ad una lentezza della loro app, che non era sostenibile, non era, diciamo, competitiva. Secondo punto, molto importante, è che questo approccio era fragile. Cioè, il client, cioè l'app, era strettamente collegata all'API REST che erano esposte sul server. Finché, diciamo, non c'era nessun cambiamento su quest'API funzionava, ma quando c'era un cambiamento sull'API, bisognava far seguire immediatamente un cambiamento anche sulla app, altrimenti smetteva di funzionare, essenzialmente. L'ultimo problema, grosso problema, è che incontrarono subito delle difficoltà nello sviluppo. Queste difficoltà erano legate soprattutto al fatto che le API REST che avevano a disposizione non erano ben documentate, cioè la documentazione era essenzialmente vecchia, e questa documentazione datata, i tipi di dati, gli oggetti che erano scambiati, non erano aggiornati, e quindi questo portava a enormi difficoltà. Per ovviare questi problemi, nel 2012 alcuni ingegneri all'interno di Facebook decidono di sviluppare un nuovo linguaggio, che è GraphQL. Cioè decidono, anziché incastrare il nostro oggetto, i nostri basi di dati, le nostre fonti di dati all'interno delle strutture del REST, creiamo un nuovo linguaggio che esporti verso il client direttamente le strutture che abbiamo a disposizione. Quali sono i principali vantaggi di questo nuovo linguaggio che loro portano? Quello fondamentale è che il client può scegliere che cosa vuole, cioè il client può selezionare i dati che gli interessa recuperare, a differenza del REST che invece offre praticamente degli oggetti che sono preconfezionati, le decide il server in pratica, invece in questo caso il client decide quali campi, di quali oggetti gli interessa recuperare. E tutto questo viene fatto interrogando un unico endpoint, invece il tradizionale approccio REST prevede che appunto l'endpoint definisca le risorse e quindi queste risorse poi vadano a definire i vari tipi di oggetti che si possono recuperare. Quindi in questo modo il client poteva recuperare con una singola chiamata da un unico endpoint tutti i dati di cui aveva bisogno. Quindi chiaramente questo ovviava a tutti i problemi di velocità e poi vedremo anche in parte a quelli della fragilità. Ultimo punto importante del GraphQL è che utilizza un sistema tipizzato che descrive dati e operazioni. E questo diciamo da un punto di vista consente di evitare errori quando si sviluppa il client, da un altro punto di vista in realtà porta con sé la documentazione assieme al codice. Quindi ogni volta che viene fatta una release di un server GraphQL automaticamente le API sono già documentate. Ma abbiamo detto quali sono le caratteristiche principali di GraphQL. Facciamo un attimo un passo indietro. Che cos'è GraphQL? Perché magari c'è qualcuno qui che l'ha sentito nominare ma non lo conosce, cioè non sa esattamente a cosa serve. GraphQL è, se non l'avete capito, un linguaggio per creare API. Perché ha questo nome? Abbiamo detto che nasce all'interno di Facebook. All'interno di Facebook i rapporti tra i vari oggetti che trattavano all'interno di Facebook, quindi attraverso gli utenti, i post di utenti, i like, le immagini caricate, eccetera, veniva rappresentato come sotto forma di grafo. Quindi c'era, che ne so, l'utente collegato a tutti i suoi amici, collegati ai loro post, eccetera. Questo grafo è quello che può essere navigato attraverso il linguaggio GraphQL, dove per l'appunto QL, la parte di QL, indica query language, quindi si tratta proprio di un linguaggio per interrogare e manipolare i dati. Sul fatto della creazione dell'API, va detto che le specifiche di GraphQL non solo offrono un'indicazione di come deve essere il linguaggio, ma offrono un'indicazione anche su come deve essere sviluppata il lato client, quindi si dice offrono un runtime, cioè ci dicono come deve essere interpretato questo linguaggio lato server. Riassumiamo brevemente, quindi, si è parlato della storia di GraphQL, riassumiamo brevemente i punti salienti. Quindi nasce nel 2012 come progetto interno di Facebook, nel 2015 diventa un progetto open source, nel 2015 comincia ad esplodere, perché viene inizialmente preso in considerazione da GitHub, da Airbnb e da Twitter, e poi successivamente seguono Netflix, PayPal, Amazon, ma ancora adesso ci sono costantemente nuove realtà che cominciano ad utilizzarlo. Un anno molto importante è il 2018, innanzitutto perché GraphQL passa sotto il controllo di una foundation, che viene creata appositamente la GraphQL Foundation, che risponde alla Linux Foundation, quindi diciamo c'è proprio una fondazione che si occupa dello sviluppo delle specifiche di GraphQL e anche di promuovere GraphQL. E nello stesso anno, 2018, è l'ultima release stabile delle specifiche di GraphQL. Attualmente ce n'è un draft, c'è una versione in draft, però l'ultima versione stabile è quella del 2018. Ora, abbiamo fatto un sacco di chiacchiere, veniamo alla parte pratica. Passo la parola a Lorenzo e la condivisione dello schermo. Allora, abbiamo iniziato a vedere che cos'è GraphQL, adesso iniziamo a vedere anche come funziona in pratica. Lo schermo è arrivato, vero? Perfetto, allora ho questo strumento che si chiama Playground, che è proprio come dice la parola, il parco giochi di GraphQL. È un'applicazione web che sta montata, diciamo, on top, sopra, ad un server, ad un'applicazione di GraphQL. E cosa ci permette di fare? Ci permette di esplorare tutte le feature, le operazioni che GraphQL ci mette a disposizione, e anche di vedere la documentazione. Vi racconto brevemente come funziona. Qui vedete la parte sulla sinistra, quella in grigio più scuro, che è la parte dove si scrivono le operazioni di GraphQL che si vogliono eseguire. E questa parte a destra, di grigio un pochino più chiaro, è la parte dove vedremo il risultato. Poi è possibile vedere la documentazione, che è quello che diceva Tiziano, cioè che GraphQL ha questo oggetto che si chiama schema, dove sono descritte tutte le operazioni. Quindi chiunque collegandosi ad un server può vedere le operazioni che il server stesso espone. E poi vedremo quali sono. Quindi, iniziamo a vedere quali sono queste operazioni. La prima che vi vorrei far vedere è l'operazione di lettura, quindi l'operazione di lettura di dati, quella che in GraphQL si chiama query. e per raccontarvi che cos'è la query vi racconto questa storia. A Register abbiamo assunto un nuovo sviluppatore che viene dall'America e come tutti sapete, appena gli americani arrivano in Italia pensano subito a una cosa che non è quella che pensate voi, ma è un'altra, che è il cibo. e questa applicazione di demo che vi stiamo facendo vedere ci sono delle API per visualizzare appunto ristoranti per capire dove andare a mangiare e iniziamo, scendiamo nel pratico. La operazione per leggere i dati si chiama operazione di query. Per eseguirla si scrive query e si apre nelle parentesi. A questo punto ci sono tante operazioni che possono essere eseguite, quindi tutte le query che mette a disposizione il server. Iniziamo per scaldarci con una query facilissima, la query più facile che immaginiamo, la query che si chiama me, cioè che restituisce le informazioni dell'utente loggato al momento. Come potete vedere si è aperto l'autocomplete perché mettendo il server GraphQL a disposizione la documentazione, il playground, l'applicazione playground ne fa uso per darci dei consigli. La query.me e per eseguirla si mettono le parentesi graffe e nelle parentesi graffe mettiamo i dati che il client vuole ricevere. Quindi, Tiziano prima ci ha detto che la grande innovazione di GraphQL è quella per cui il client decide quali sono i dati che vuole recuperare dal server e lo vediamo in propria nazione. Il nostro autocomplete ci propone questi tre campi che sono username, first name e last name e noi decidiamo di prendere lo username. Eseguiamo la query e vedremo che il server ci restituisce una risposta. Questa risposta come fa? Come è fatta? È un oggetto GISO quindi simile a quella del REST che contiene sempre un campo data e all'interno del campo data c'è un altro campo che si chiama come il nome della query che è stata eseguita. Adesso si vedete meglio, giusto? All'interno dell'oggetto che è stato restituito ci sono i campi che noi vogliamo in questo caso user name è guest. Andando avanti possiamo far vedere che è possibile recuperare anche altri campi ad esempio first name in questo caso quindi se eseguiamo la query c'è il restituito user name e anche first name e ovviamente anche last name Qual è la potenza di questa cosa? La potenza di questa cosa è che un client potendo decidere quali dati potendo decidere quali dati può prendere può ottimizzare le richieste che fa verso il server e quindi far risparmiare dati al cliente al cellulare del cliente far risparmiare banda al server e quindi siamo tutti contenti. Vediamo dunque il nostro nuovo programmatore vuol cercare tutti i ristoranti della zona e quindi esegue la query restaurant. La query restaurant restituisce molti dati nel nostro caso il nostro programmatore vuole vedere il nome del ristorante l'indirizzo e la città. esegue la query e ha un bellissimo errore di validazione. Ho sbagliato anche. Vediamo cosa ho sbagliato. vediamo che c'è il ristorante da Luigi il ristorante pizza e fichi la senza sushi bar e così via. A questo punto questa lista che vedete è abbastanza lunga non è molto interessante perché ci sono dei ristoranti in tutte le città ma il nostro programmatore gli interessa solo le città i ristoranti di Milano perché lui si trova a Milano e quindi cosa fa? Aggiunge un filtro alla query dove dice che la città i ristoranti si devono trovare nella città Milano esegue la query e come potete vedere i risultati sono cambiati e ci sono solamente questi 5 risultati a questo punto però non è ancora contento perché oltre a vedere la città vuole anche capire se un ristorante vale la pena di andarci oppure no e quindi cosa fa? recupera anche il rating cioè questo numero da 0 a 5 che indica quanto il ristorante è buono riesegue la query e a questo punto ottiene anche il rating del ristorante a questo punto non è ancora contento e decide di vedere anche le review che sono state date che sono state lasciate dai clienti a questo ristorante e quindi restituisce il campo review come potete vedere se lancio questa query ottengo un errore perché? perché il review non è un oggetto semplice come nome l'indirizzo sulla città o il rating che se vi ricordate sono dei il nome è una stringa e anche l'indirizzo è la città ma il rating è un numero la review è un oggetto vero e proprio come ristorante e quindi in questo caso cosa fa? il nostro nuovo sviluppatore dell'oggetto review sceglie quali sono i campi che vuole visualizzare in questo caso c'è il messaggio della review il rating e decidiamo di visualizzare queste informazioni come potete vedere stiamo aggiungendo via campi alla nostra query e in questo caso abbiamo anche le review che è una lista che contiene le varie review che hanno il messaggio e il rating proprio l'indirizzo proprio le informazioni che noi volevamo e in questo caso abbiamo una, due, tre quattro review che hanno dei rating che sono quattro alcuni sono due quest'altro è qua a questo punto cosa succede? il nostro nuovo sviluppatore non è contento di leggersi tutte le review perché non sono molto interessanti e ci mette troppo tempo per cui decide di leggere solamente le review che hanno un rating maggiore di due quindi cosa fa? la nostra query la modifica mettendo un ulteriore argomento un ulteriore parametro al sotto oggetto review esegue la query e quello che diciamo tre perché prende da due con tre dal su quindi come potete vedere il risultato cambia e nel mitico ristorante dal Luigi vengono visualizzate solamente le review che hanno un punteggio maggiore di tre ok se non ci sono domande andiamo avanti con la presentazione ok qui prendo io la la presentazione allora riepiloghiamo brevemente quanto si è detto allora GraphQL è una specie di layer che si inserisce tra il client e quelle che sono le data source le fonti dei dati praticamente se vogliamo compararlo con quello che è il REST dove abbiamo tanti end point o tante risorse però essenzialmente restituiscono ognuna il loro oggetto in GraphQL abbiamo un singolo end point che in qualche modo ha un'intelligenza perché recupera i dati sa dove recuperare questi dati li aggrega e poi li restituisce al client se vogliamo fare un parallelo con la vita reale nel REST se noi dobbiamo ordinare una pizza una birra comprare una birra e portare un vestito in lavanderia dobbiamo fare tre chiamate a tre end point diversi mentre con il GraphQL in pratica è come se noi avessimo una fantastica assistente virtuale a cui diciamo io voglio una pizza una birra e portami questo vestito in lavanderia la nostra assistente fa le cose per noi sa gli indirizzi di tutti i negozi e ci restituisce la pizza la birra e il vestito lavato quindi diciamo il client in questo modo si interfaccia solamente con un unico end point chiedendogli tutte le risorse che voglio recuperare vediamo un pochino più in dettaglio qual è l'architettura di un sistema GraphQL abbiamo detto che si tratta di un sistema client server quindi esattamente come il rest rispetto al rest in più oltre al client server c'è un terzo elemento che fa parte di questo ecosistema che è il GraphQL schema il GraphQL schema è un documento in pratica nel quale vengono indicati tutti gli oggetti e le operazioni che possono essere effettuate su di essi quindi un flusso normale di una query GraphQL avviene con il client che appunto interfacciandosi con lo schema e quindi recuperando le informazioni su quello che può o non può fare i tipi di dati esposti dal server effettua una query verso il server chiedendogli ad esempio dei dati in questo caso il nostro server al suo interno ha nel cuore di un server GraphQL ci sono delle funzioni che si chiamano resolver queste funzioni hanno il compito di recuperare i dati poi entreremo maggiormente nel dettaglio più avanti essenzialmente però possiamo immaginare che appunto i nostri resolver possano recuperare dati da varie fonti che non necessariamente sono omogenee addirittura può recuperare da altre API da database di qualsiasi tipo ma anche da un file system da ovunque una volta che questi dati sono stati recuperati vengono aggregati come ce li ha chiesti il client e quindi vengono restituiti al client Lorenzo ci ha spiegato ci ha fatto vedere qualche esempio di operazioni in GraphQL essenzialmente le operazioni che abbiamo visto con Lorenzo sono tutte query come abbiamo visto le query servono per recuperare dei dati in GraphQL in realtà esistono tre tipi di operazioni quindi oltre alle query che abbiamo visto con Lorenzo ci sono le mutation che servono invece per modificare i dati quindi diciamo se vogliamo fare un parallelo con un database relazionale diciamo che le query sono delle select le mutation sono delle update delle insert oppure delle delete esiste poi un terzo tipo di operazioni che si chiamano subscription che sono in qualche modo molto innovative dal punto di vista di GraphQL perché non esiste se noi appunto partiamo sempre da un parallelo con il resto non esiste un parallelo in rest delle subscription le subscription sono infatti un tema molto interessante del GraphQL più avanti le spiegheremo un pochino più nel dettaglio come funzionano vi dico brevemente che si tratta in pratica di sottoscrizioni a servizi push da parte del server cioè il client chiede avvertimi ogni volta che succede un determinato evento e quindi una volta che è stata effettuata questa sottoscrizione il server invia diciamo dei dati ogni volta che succede un determinato evento poi dopo faremo un esempio un pochino più pratico riepiloghiamo anche brevemente quanto abbiamo visto con Lorenzo quindi come è fatta una query GraphQL più o meno a questo aspetto qui c'è la parola chiave query che ci indica appunto il tipo di operazione può essere query mutation o subscription in questo caso una query c'è un nome in questo caso che è get all restaurants che è opzionale però diciamo normalmente si mette quando si sviluppano sistemi di produzione ora quando si fanno esempi veloci dal playground si può anche omettere normalmente si mette anche perché serve nel caso di debug nel caso di operazioni multiple eccetera ci possono essere questo lo vedremo più avanti delle variabili che poi vengono utilizzate all'interno della query normalmente quando ci sono degli oggetti che hanno il nome al plurale come appunto succede in questo caso con restaurants review per convenzione si tratta di array cioè il risultato sarà una molteplicità di oggetti di cui vogliamo recuperare i campi che sono specificati lì ci possono essere degli argomenti l'ha mostrato Lorenzo con siti con le rating quelli sono argomenti che vanno a modificare il risultato che ci viene restituito dal server e chiaramente poi ci devono essere i campi che si vogliono recuperare di ogni oggetto andiamo a vedere qualche esempio con Lorenzo e gli ripasso la parola allora ricondivido lo schermo ed eccoci qua sul playground ancora come faccio a chiudere ok allora parliamo di mutation le mutation sono le operazioni che servono per scrivere i dati sul nostro server nel nostro caso nella nostra applicazione di esempio abbiamo preparato alcune mutation che servono per fare delle operazioni sul nostro server come ad esempio creare una review oppure aggiungere una risposta ad una review inserita le review abbiamo se vi ricordate dell'esempio di prima sono dei messaggi con un voto che possono essere applicati ai ristoranti per aggiungere per eseguire una mutation si utilizza la parola chiave mutation seguita dalle parentesi graffe e poi si inserisce il nome della mutation che si vuole eseguire nel nostro caso create review create review che avrà degli argomenti dei parametri da passare che vedremo tra un attimo e poi restituirà un oggetto di tipo review questo oggetto di tipo review come risposta dal server noi vogliamo che ci restituisca il messaggio che abbiamo inserito il rating che abbiamo inserito il ristorante su cui è applicata la review e di questo ristorante vogliamo prendere il nome diciamo il rating globale e anche il numero del review veniamo a i parametri che vanno le cose le informazioni che vanno passate a questa mutation create review per essere eseguita l'argomento il nome dell'argomento è input che non è un messaggio semplice ma è un oggetto un oggetto che contiene alcune informazioni che come potete immaginarvi sono l'id delle ristorante sul quale vogliamo eseguire la review che nel nostro caso diciamo che è il numero 10 poi il messaggio che vogliamo lasciare su questo ristorante che in questo caso scriviamo ciao appunto era buonissimo e siccome tutto ci è perduto diciamo che come rating diamo un bel 5 a questo punto abbiamo compilato tutti i dati e siamo pronti per eseguire la nostra mutation la eseguiamo e la risposta che ci dà il sempre è come sempre un oggetto json anche nel caso di scritture tutto è contenuto all'interno del campo data che contiene come sempre il nome dell'operazione che stiamo eseguendo sia questa una question sia questa una query o anche una subscription con i campi che abbiamo chiesto quindi il message il message che abbiamo appena inserito il rating che abbiamo appena inserito e poi i dati dell'epistorante sul quale abbiamo applicato la review in cui abbiamo il nome il rating che è il 5 e poi il numero di review che è 1 cosa succede se aggiungiamo un'altra review a questo ristorante quindi il restaurant id avrà lo stesso id questa è un'altra persona che mette la review e dice non mi è piaciuto niente e come voto invece di dare 5 da un 1 eseguiamo la nostra mutation e vediamo che il server ci ha risposto con il messaggio che abbiamo appena inserito il voto il rating che abbiamo appena inserito e ovviamente i dati dell'epistorante che concernono le review sono cambiate quindi il nome è lo stesso il rating è sceso a 4,5 e il numero delle review è salito se ne aggiungiamo un altro per fare un altro esempio non male ma c'è di meglio eseguiamo la mutation vediamo che il voto cambia e anche il numero delle review cambia come diceva Tiziano è possibile dare un nome alla mutation e adesso lo facciamo e diciamo che la nostra mutation si chiama create review per dare il nome alla mutation si fa così ed è possibile anche aggiungere delle variabili alla nostra mutation quindi nel nostro caso possiamo definire quali sono le variabili che vogliamo utilizzare nel nostro caso saranno una variabile che si chiama restaurant id che è di tipo id poi avremo che identifica ovviamente l'id del ristorante una variabile una variabile che sarà di tipo stringa mettici i dollari in cima alle variabili sì ovviamente scusate le variabili devono essere precedute dal simbolo dollaro che serve per dire che queste sono le variabili e poi mettiamo la variabile rating che sarà di tipo int a questo punto cosa succede nella nostra mutation sarà possibile non utilizzare dei valori fissi statici diciamo così ma utilizzare le variabili tramite l'espressione dollaro e nome della variabile messaggi invece che essere il messaggio tablato diventa la variabile messaggi e rating succede lo stesso quindi usiamo la variabile rating cosa succede se a questo punto eseguiamo la nostra mutation succede che abbiamo un errore abbiamo diversi errori questo perché mi ero dimenticato di mettere il punto esclavativo che serve per dire che questa questa variabile è obbligatoria però anche se la scrivo giusta abbiamo un errore questo errore sta dicendo che io ho eseguito questa mutation ma non ho passato alcun valore quindi il playground ci mette a disposizione questa questa sezione per definire quali sono i valori delle variabili quindi io definisco che la variabile restaurant td ha valore 10 che è la variabile message ha come valore mi è piaciuto più dolce e la variabile rating ha come valore 4 a questo punto se andiamo ad eseguire la nostra mutation la mutation è eseguita e quindi il server ci restituisce il messaggio che abbiamo inserito il rate che abbiamo inserito e ovviamente è cambiato il rate rispetto a prima e anche il numero delle regioni forse vi state chiedendo a cosa serve utilizzare le variabili e dare i nomi alle mutation e anche alle query serve fondamentalmente per due motivi il primo lato client cioè lato di chi chiama chi esegue la query è per non dover scrivere nel codice una concatenazione di string quindi essere meno prone a error di questo tipo l'altro grande vantaggio della Fusever sta che nel fatto che quando eseguiamo questa mutation nei dati che vengono trasmessi al server la mutation rimane sempre uguale e cambiano solamente le variabili che noi studiamo questo permette al server di poter eseguire delle operazioni di cache ad esempio e velocizzare quindi capire prima non dover impazzarsi un'altra volta la query che sta arrivando la mutation che sta arrivando ma sapere che quella questa query ce l'ho già in cache e quindi aumentare le performance ovviamente le mutation possono abbiamo visto che in questo caso le abbiamo utilizzate per inserire dei dati ma possono anche essere utilizzate per cancellare le date quindi potrebbe essere esserci la mutation di live review che si prende in input sicuramente di della review e ovviamente possono esserci anche le mutation per aggiornare un dato quindi update review ad esempio oppure anche update restaurant name oppure potrebbe esserci la mutation update restaurant e così via a questo punto ripasserei la parola a Pizziano e andiamo avanti con la presentazione ok allora forse vi starete chiedendo vedendo appunto la presentazione di Lorenzo direte è molto bello quando il il nostro playground ci riempie tutti i campi però come facciamo se stiamo scrivendo noi il codice del client a sapere come si deve fare quali sono i tipi di dati eccetera come abbiamo detto esiste il grafico delle schema lo schema è proprio la fonte che dice una specie di potete immaginarlo come una specie di contratto tra client e server quindi definisce come si devono parlare il client e il server vediamo proprio in maniera breve veloce come è fatto lo schema della nostra applicazione di esempio abbiamo essenzialmente alcuni oggetti questi oggetti sono definiti attraverso la parola chiave type in questo caso quella che vedete è la definizione dell'oggetto utente user che ha tre campi user name first name e last name per ogni campo va specificato qual è il tipo di quel campo in questo caso si tratta di tipi stringa il punto esclamativo che vedete in fondo come va detto Lorenzo è quello che viene chiamato not null modifier cioè ci dice che quando il server ci restituirà un oggetto di tipo user quei tre campi non potranno mai essere nulli i tipi come string appunto come vi diceva Lorenzo si chiamano tipi scalari e in GraphQL sono definiti cinque tipi scalari che sono int float string boolean e id tutti gli altri tipi li dovete definire voi attraverso questa definizione qui che vedete type noi stiamo in pratica definendo un nuovo tipo il tipo user abbiamo poi un restaurant nel nostro schema che come vedete ha già più campi e tra questi ce n'è qualcuno un po' più interessante ad esempio review review in questo caso ci torna un array e lo deduciamo dal fatto che l'oggetto review è tra parentesi quadre questo indica che il risultato sarà un array di oggetti review inoltre questo campo è anche interessante perché prende un argomento che è rating che però in questo caso è opzionale non essendoci il punto esclamativo abbiamo altri due oggetti che sono review e reply che fanno ampiamente uso del riferimento tra di loro quindi una volta che si è definito un certo tipo nello schema questo tipo può essere utilizzato esattamente come qualsiasi altro tipo built in di GraphQL per concludere la parte sullo schema esistono altri tre tipi questi tre tipi sono speciali perché sono dei tipi che identificano degli oggetti particolari cioè le query del nostro schema le mutation e le subscription in uno schema GraphQL l'unico di questi tipi che è obbligatorio è query gli altri due sono opzionali però tendenzialmente almeno mutation assolutamente c'è quindi in query saranno specificate tutte le operazioni per recuperare dei dati che si possono fare sul nostro server mutation indicherà tutte le operazioni che consentono di modificare i dati sul nostro server e subscription le operazioni di subscription che vedremo tra poco un pochino più in dettaglio da notare quello che vi diceva anche Lorenzo cioè che in questo caso se una delle operazioni di mutation prende in input un oggetto complesso come in questo caso che c'è un oggetto review input che c'ha tre campi va definito come un oggetto separato questo oggetto anziché essere definito con la parola chiave type viene definito con la parola chiave input veniamo a trattare il tema delle subscription che si diceva prima di questo tema vi preannuncio che le subscription aggiungono un livello di complessità un pochino maggiore alle vostre applicazioni diciamo normalmente quello che si fa è quando si parte con GraphQL si parte con delle applicazioni che hanno query e mutation poi successivamente si arriva alle subscription che però hanno dei casi d'uso più specifici tendenzialmente vengono applicate a quei casi in cui c'è bisogno di una reazione da parte del server quindi del client di tipo real time l'esempio che vi facciamo vedere qui solamente dal punto di vista di uno schema è ad esempio una chat che è un classico esempio dove abbiamo bisogno di un'interazione in tempo reale quello che possiamo immaginare qui è che abbiamo un'applicazione client che visualizza appunto la chat quindi i messaggi di tutte le persone che scrivono e quindi deve essere aggiornata ovviamente ogni volta che una persona inserisce un messaggio quello che potrebbe accadere se noi sviluppiamo una chat con GraphQL è che il nostro client invia una richiesta di subscription al server ad esempio potrebbe chiamarsi new message in questo caso ad indicare che l'evento che scatena dei dati dal server verso il client è l'inserimento di un nuovo messaggio da parte di un utente quello che succede tipicamente quando un server riceve una richiesta di subscription è che crea una connessione persistente con il client nelle implementazioni di GraphQL che trovate a giro io direi che sempre questa connessione è di tipo web socket quindi è una connessione che diciamo è sempre su TCP però non passa sul canale HTTP ma passa sul protocollo web socket questo consente di creare una connessione bidirezionale e persistente tra il client e il server chiaramente implica dal punto di vista del server anche un utilizzo di risorse questo poi dovrete considerarlo attraverso questa connessione persistente il server farà passare tutti i messaggi che arriveranno ogni volta che si scatenerà l'evento richiesto in questo caso gli invio di nuovo messaggio tendenzialmente il flusso sarà questo cioè quando un nuovo utente scriverà sulla chat ad esempio invocando una mutation che in questo caso abbiamo chiamato say utilizzerà questa mutation per inserire un messaggio sulla chat il server invierà un oggetto che in questo caso abbiamo immaginato che il client abbia richiesto il sender e il messaggio lo invierà sul web socket e quindi il client lo potrà ricevere e eventualmente visualizzare sulla sua interfaccia stessa cosa se un altro quando un altro utente arriva manda un nuovo messaggio succederà la stessa cosa e così via entriamo ora sulla parte di live coding vediamo come funziona un server GraphQL per poi implementarlo implementarne una parte diciamo tendenzialmente quando un server GraphQL riceve una query come questa che vedete nella slide quello che succede è che questa query passa attraverso tre fasi la prima fase viene chiamata parts cioè questa query viene parzata e viene trasformata in un albero sintattico questo albero sintattico viene poi validato rispetto allo schema del server quindi viene verificato che la query sia corretta e infine viene eseguita la parte di esecuzione come vi dicevo poc'anzi viene diciamo eseguita attraverso una serie di funzioni che si chiamano resolver come funziona l'esecuzione di questi resolver allora essenzialmente noi abbiamo una query di questo tipo un resolver si occupa della risoluzione di un singolo di questi campi che voi vedete nella query quindi diciamo che ognuno di questi oggetti cioè query che ha una proprietà restaurant restaurant che ha la proprietà name, city, review review che ha la proprietà content and start ognuna di questi dovrà corrispondere a un resolver ora considerate che nella maggior parte delle implementazioni poi esistono dei resolver di default che si occupano di risolvere diciamo si occupano dei casi più banali per cui quello che dovrete fare quando dovete implementare un server graph QL è solitamente scrivere i resolver per i casi non banali questi resolver non vengono applicati tutti insieme ma vengono applicati in cascata attraverso una gerarchia potete anche intuirla nel modo in cui noi abbiamo indentato questa query che vedete qui potete immaginare che ogni livello di indentazione rappresenta un livello della gerarchia dei resolver e più specificatamente il primo resolver che viene applicato è quello dell'oggetto query cioè quello che si chiama il root resolver il root query resolver in questo caso quindi viene esiste un resolver nella vostra applicazione che deve risolvere l'oggetto restaurant che tra l'altro ha l'attributo id uguale 1 tendenzialmente questo resolver farà qualcosa come recuperare da una fonte di dati il ristorante con id 1 quindi recupererà un oggetto di questo tipo immaginiamo su questo oggetto verranno applicati poi i resolver di livello inferiore cioè ad esempio il resolver sull'oggetto restaurant tendenzialmente ci saranno due resolver banali quindi che da questo oggetto tireranno fuori il name e la city e poi ci dovrà essere un resolver che da questo oggetto tira fuori le review e questo è un resolver più complesso perché dovrà recuperare tendenzialmente da un data source che può essere lo stesso o un altro data source tutte le review che corrispondono al ristorante con questo id quindi tipicamente utilizzerà l'id dell'oggetto ristorante per recuperare le review se noi immaginiamo che appunto il data source sia un database relazionale essenzialmente questo corrisponde a fare un ulteriore query su questo database per recuperare tutte le review quello che restituirà questo resolver sarà un array di oggetti review fatto in questo modo qui su questo array di oggetti verranno applicati poi i resolver della review quindi in questo caso si tratta di tutti di resolver banali che recuperano il contenuto e il numero di stelle da ognuno di questi oggetti questo albero diciamo di resolver apparentemente può sembrare complesso in realtà all'interno delle implementazioni di GraphQL viene applicato in maniera molto veloce essenzialmente ciò è dovuto al fatto che i resolver che vengono eseguiti sullo stesso livello sono eseguiti in parallelo quindi diciamo l'esecuzione è molto veloce passiamo a vedere un po' di codice allora quello che abbiamo realizzato per questo live coding è un server GraphQL fatto in Node.js un type font sì un server GraphQL realizzato in Node.js essenzialmente perché Node.js perché l'implementazione in Node.js è molto semplice e perché GraphQL inizialmente nasce nel mondo JavaScript perché l'implementazione di base di data da Facebook rilasciata da Facebook è quella su JavaScript che poi è stata portata negli altri linguaggi per la nostra implementazione abbiamo utilizzato una particolare implementazione di GraphQL che è quella fornita da Apollo Apollo in pratica per chi di voi non lo conosce è diciamo lo standard de facto almeno nel mondo JavaScript per l'implementazione sia del client che del server GraphQL in questo caso come vedete scrivere un server GraphQL con Apollo è veramente questione di poche righe quello che dovete essenzialmente fare è definire cioè inizializzare l'oggetto Apollo Server con passandogli questi due oggetti che sono questo type devs che contiene lo schema che in questo caso abbiamo su un altro file quello che vedete qui è una versione semplificata perché per questione di tempo per l'esempio faremo vedere un particolare resolver e poi vengono passati viene passato l'elenco di resolver appunto che andremo a implementare insieme una volta definito il server questo server viene avviato e si mette in ascolto quindi se noi facciamo il nostro IBM Start in pratica il nostro server partirà e il bello di Apollo Server è che parte di già quando non si trova in un ambiente di produzione parte di già con il playground quindi avrete già il vostro bel playground che gira dato che il playground per l'appunto legge dal nostro schema in questo caso abbiamo anche il nostro porto per scrivere le query abbiamo definito qui nel nostro schema c'è definita la query restaurants e qui possiamo immaginare di recuperare ad esempio il name e la city di un certo ristorante che cosa succede se noi eseguiamo questa query ci darà un messaggio d'errore perché ci dà un messaggio d'errore perché il server prova ad applicare i resolver banali quindi prova a ottenere un resolver banale per l'oggetto restaurant ma in questo caso non ha nulla su cui lavorare per cui ci dice che questa query restituisce nulla però nello schema è previsto che l'elenco dei ristoranti non possa essere nulla per cui quello che dobbiamo fare è implementare i nostri resolver che cosa dobbiamo fare per implementare i nostri resolver scrivo diciamo cerco di scrivere il codice nella maniera più semplice possibile così che anche chi di voi non fosse particolarmente abbezzo a Node.js dovrebbe riuscire a seguire allora essenzialmente quello che vedete qui è un oggetto che conterrà tutti i resolver della nostra applicazione in questo caso come abbiamo visto nello schema della slide dobbiamo scrivere il resolver di livello più alto cioè il resolver dell'oggetto query quindi quello che dobbiamo fare è definire un oggetto query e all'interno di questo oggetto query definire un resolver che ci risolva appunto il campo restaurants come abbiamo detto il resolver è una funzione e questa funzione deve restituire l'elenco dei ristoranti per questione di semplicità e di velocità qui in questo caso abbiamo definito un data source che in realtà è cablato nel codice che ci restituisce l'array di tutti i ristoranti e l'array di tutte le review quindi in questo caso per semplicità quello che possiamo fare è semplicemente restituire l'elenco di tutti i ristoranti e noi riavviamo il nostro server e torniamo sul playground voilà la nostra query funziona nel nostro diciamo applicazione di esempio ora ne ho inseriti solamente tre ce ne sono due di Milano e uno di Firenze bellissimo chiaramente avete visto con Lorenzo che su questa query restaurants c'è la possibilità anche di filtrare cioè anzi di restringere la ricerca solo per una particolare città bellissimo allora io vorrei solamente i ristoranti di Milano provo a eseguire la mia query però non cambia niente perché non cambia niente perché essenzialmente questo tutto ciò che voi vedete nello schema e tutto ciò che può essere richiesto al server deve essere poi implementato in questo caso noi non abbiamo ancora implementato il meccanismo che fa qualcosa con questo argomento che ci arriva dal client come possiamo fare allora Apollo mette a disposizione una serie di argomenti per i resolver il primo argomento è l'oggetto padre che nel caso dei query resolver non ci serve vedremo più avanti come utilizzarlo il secondo argomento sono proprio gli argomenti che vengono dal client in questo caso abbiamo visto che l'argomento città city è opzionale quindi diciamo all'interno del nostro resolver dovremo fare un controllo se l'argomento è definito o meno se l'argomento non viene passato essenzialmente restituiamo l'elenco di tutti i ristoranti come abbiamo fatto finora se invece l'argomento viene restituito dovremo filtrare questo elenco di ristoranti in modo che torni solamente quelli della città quelli che hanno la città esattamente uguale al nostro argomento qui abbiamo il nostro server e magicamente la nostra query ora funziona se scrivo Milano mi restituisce solo il ristorante di Milano se scrivo Firenze mi restituisce solo quelli di Firenze se scrivo una città per la quale non esistono ristoranti mi ritorna un elenco vuoto attenzione che è molto diverso da restituirmi il null come restituiva inizialmente bellissimo a questo punto compriamo ancora un po' la nostra query vogliamo anche restituire come abbiamo visto con Lorenzo l'elenco delle review e sull'elenco delle review vogliamo recuperare il messaggio e magari il raping che è stato dato dall'utente ma ops anche in questo caso ci dice che non esiste in pratica il resolver per le review come possiamo fare in questo caso se vi ricordate come era strutturata la query cioè la schema dei resolver che abbiamo visto prima si tratta di definire un resolver per un oggetto non root finora abbiamo definito il resolver solo per l'oggetto query che è l'oggetto root praticamente del nostro schema dobbiamo definire un resolver per un oggetto di tipo ristorante perché l'oggetto di tipo ristorante avrà appunto in questo caso un campo che si chiama review quindi definiamo un oggetto di tipo ristorante e questo oggetto al suo interno avrà i suoi resolver in particolare a noi interessa restituire il resolver che si chiama reduce anche in questo caso si tratta di una funzione e in questo caso restituiremo l'array delle nostre review lo filtriamo di già ok se se restituisco così solo l'elenco delle review mi restituirebbe per ogni ristorante tutte le review non quelle specifiche di quel ristorante quindi già in questo caso qui è il caso in cui dobbiamo utilizzare il primo argomento che viene passato a un resolver gafql cioè il parent in questo caso significa che se vi ricordate lo schema noi stiamo scendendo su quell'albero e l'oggetto che noi otteniamo come primo argomento è proprio l'oggetto risolto dal resolver di livello superiore in questo caso qui l'oggetto è un oggetto ristorante quindi lo chiamo restaurant quindi quello che noi dobbiamo fare dato che vogliamo restituire solamente le review relative a questo ristorante è dire ok dell'elenco delle review mi restituirai solo quelle per cui il restaurant id è esattamente uguale all'id dell'oggetto padre in questo caso potete immaginarvi questo array delle review esattamente come fosse un database relazionale su cui abbiamo definito una proprietà al restaurant id che indica qual è l'id del ristorante che fa riferimento una nota giusto per chi non è proprio esperto di javascript alla linea 14 abbiamo detto il risolvere è una funzione che prende due parametri uno è l'oggetto padre e l'altro sono gli argomenti della query il javascript per come è strutturato ci permette di non specificare il secondo argomento ma nel secondo argomento ci sono comunque gli argomenti sì tendenzialmente in realtà sono quattro gli argomenti che Apollo passa a risolvere in questo caso noi nel primo caso ne abbiamo utilizzato il due il primo chiaramente l'ho dovuto specificare per motivi posizionali ma come vedete per convenzione l'ho fatto iniziare con un underscore per indicare che non lo sto utilizzando nel secondo caso per ora utilizziamo solo il primo argomento quindi tornando al nostro playground a questo punto la nostra query funziona vengono restituite anche le review con il messaggio e il rating di tutte le review benissimo concludiamo dicendo ok voglio però solo quelle che hanno un rating di 5 la 5 in su cioè 5 anche in questo caso va implementato come vedete se provo a lanciarlo non funziona quindi come lo implementiamo allo stesso modo visto sopra cioè andiamo a recuperare gli argomenti in questo caso se l'argomento non ci è stato passato restituiamo esattamente quello che restituiamo prima se invece l'argomento ci è stato passato filtriamo ulteriormente questo risultato in modo che il rating della review che viene restituita sia uguale o superiore al nostro argomento torniamo sul nostro playground e infatti funziona in questo caso con 5 ci mostrerà solo quelli da 5 se vediamo 4 ci dovrebbero mostrare quelli da 4 e da 5 e spero se siete riusciti a seguire la parte anche di live coding abbiamo cercato di tenerla il più possibile semplice perché mi rendo conto che poi i linguaggi magari non tutti conoscono gli stessi linguaggi non tutti sono esattamente sul node eccetera però questo esempio qui era giusto per far capire come funziona appunto l'applicazione del resolver che poi essenzialmente costituiscono il cuore di un server GraphQL lascio la parola a Lorenzo per concludere sì allora innanzitutto vi ringraziamo di aver partecipato e passiamo adesso alle domande e risposte quindi in questa sezione abbiamo voluto dare una panoramica generale di cosa è GraphQL e a cosa serve e adesso è il momento in cui se avete delle domande o qualsiasi cosa o dubbi o osservazioni ce le potete rivolgere nel frattempo mentre state pensando alle domande da farci abbiamo aggiunto questo url a cui potete trovare le risorse alcune risorse che vi diciamo che vi lasciamo per questa sessione quindi se avete quest'url c'è anche il QR code quindi se siete pigri come me guardo se funziona si perfetto vi apre potete scandalizzarla con il cellulare oppure fargli una foto e aprirlo stasera e aprite il link che è stato scritto nella slide a questo url ci sono il codice sorgente dell'applicazione che abbiamo scritto insieme già completato c'è sia una parte completata sia una parte iniziale quindi potete guardare quello che vi piace di più il codice sorgente anche come ok anche il codice sorgente dell'applicazione fatta in java sì quella in live coding e di quella in java che si è utilizzata diciamo negli esempi precedenti esatto quella che vi facevo vedere dal playground è un'altra applicazione sempre sullo stesso stile dei ristoranti delle review però fatta in un altro linguaggio che è in java e poi trovate anche le slide questa presentazione e poi c'è un altro link con un breve questionario se volete compilarlo per noi per dirci se vi è piaciuto oppure no quindi avanti con le domande se non ci sono le faccio io grazie mille Lorenzo e Tiziano c'è una domanda la registrazione è pubblica sì caricheremo la registrazione sul canale di youtube csmt gestione quindi potete trovarlo lì nei prossimi giorni probabilmente già da domani pomeriggio innanzitutto voglio ringraziarvi perché è stato molto molto interessante siete stati molto bravi completi sia da punto di vista teorico e ho scoperto un sacco di cose che anche se avevo già utilizzato il GraphQL non conoscevo e anche da punto di vista tecnico dove siamo scesi nei dettagli ovviamente con un esempio con Node.js però è servito immagino a tutti c'è una domanda nella chat poi dopo avremo una domanda da fare anch'io quindi leggiamo prima quella della chat Dennis chiede i frontend quindi intervano direttamente GraphQL per avere i dati oppure passano attraverso l'intermedio la business logic dove si trova? dell'esempio abbiamo visto un po' però magari se vuoi approfondire se vuoi approfondire Tiziano o Lorenzo sì allora rispondo io poi Tiziano integra quello che vuole allora i frontend intervano direttamente GraphQL il layer intermedio tra i dati e il frontend è proprio GraphQL quindi GraphQL come abbiamo visto in una delle slide è proprio questo layer che si mette tra le sorgenti dati che possono essere di varie tipi ci può essere un DB un API un altro DB di un altro tipo un servizio di posta di messaggistica eccetera e il frontend la business logic dove si trova? la business logic si trova sul server GraphQL cioè come nell'esempio che abbiamo scritto insieme la business logic era molto semplice cioè il trava per il D del del review o per rating per il D dell'istorante oppure per rating però sta proprio nelle funzioni che risolvono i dati chiesti dal frontend che si chiamano resolver tendenzialmente diciamo il nostro consiglio è i resolver tenerli sempre molto leggeri quindi diciamo poi ognuno poi organizza le applicazioni come preferisce però se voi avete un secondo strato che contiene la business logic diciamo uno strato di servizio tendenzialmente all'interno dei resolver quello che succede in un'applicazione di produzione solitamente è che all'interno del resolver c'è una chiamata allo strato di servizio per recuperare i dati o eventualmente modificare e fare altre cose perfetto grazie Tiziano Lorenzo ho anche una domanda una me l'avete risposta nel corso delle slide quindi il modello di input per creare la review appunto è un review input quindi è un avete creato un modello ad hoc quindi una sorta diciamo di DTO delle API REST normali giusto sì tendenzialmente in quel caso lì conteneva tre campi hai visto si sarebbe potuta fare anche quella mutation con tre campi con dei tipi scalari semplici però quando il numero di campi in input comincia ad aumentare già tre secondo me è un numero critico vale la pena fare un oggetto di input che li racchiuda esatto poi una cosa che invece non ho compreso è perché nella definizione di restaurant il campo reviews aveva a sua volta un campo cioè perché un tipo deve avere un campo parametrizzabile ah provo a rispondere io magari se mettete la slide si ti faccio del playground no? sì sì tanto c'è anche lo screen ok ah ti faccio vedere lo schema allora lo schema lo schema lo schema eccolo qua restaurant che dà un oggetto di tipo restaurant che è un oggetto composto cioè è un tipo diciamo quindi ha possibilità di tanti campi e tra i campi che gli si possono dare c'è il review che a sua volta lo farà altro ok ho capito adesso vabbè finici pure no no cioè tutto qua in realtà quello che si può fare noi l'abbiamo messo su reviews per dare un esempio ma potrebbe essere messo su qualsiasi campo ad esempio lo schema se la query che sto facendo non esiste però in alcuni casi magari potrebbe essere una cosa del genere io richiedo la faccia la query me cioè che mi dà i miei dati e user name user name è un campo semplice però facciamo la query surgest la query più semplice query restaurants sul campo name potrei dirgli stile stile qui metteli tu per case per dire no in questo modo il server cioè gli sto passando dei parametri al server quindi il server in base ai parametri che il client ti passa può eseguire delle azioni questa cosa qua si può utilizzare per fare le ricerche per applicare delle trasformazioni eccetera in base ovviamente alle esigenze dell'applicazione certo se riapri un secondo lo schema un'ulteriore cosa che volevo aggiungere è che la cosa particolare qui scende un attimino è che restaurant ha un campo review che torna oggetti di tipo review ma l'oggetto review se guardi ha una proprietà restaurant che ritorna un restaurant cioè c'è un riferimento circolare tra questi due oggetti questo in realtà è abbastanza comune negli schema GraphQL e non costituisce un problema diversamente da quello che ci potremmo aspettare perché è il client che decide quello che vuole recuperare e anche lo strato di annidamento delle informazioni che vuole recuperare chiaramente può portare a dei problemi di performance però questo si entra poi in tutto un altro tipo di argomento però in quel caso il server in qualche modo può porre delle limitazioni al numero di ricorsioni che vengono fatte all'interno dei suoi oggetti la cosa interessante diciamo è che c'è una grossa libertà sia nel definire gli oggetti soprattutto se noi lo confrontiamo con il resto sia nel definire gli oggetti sia nel definire le operazioni cioè differentemente dal resto non abbiamo da dover pensare ma questa è una post o è una put o come lo chiamo questa risorsa ma le operazioni